cari amiche ed amici qui ancora una volta il vostro stante jean ci ritroviamo in questo video bianco e nero esattamente un anno dopo perché io l'altro video bianco e nero l'ho fatto almeno uno di quelli che ho fatto proprio in occasione dell'inizio del festival di san rimo infatti oggi al telegiornale ho saputo che è iniziato sanremo il 10 febbraio mi sembra come l'anno scorso non lo guardo anche se sta nella tele perché non me ne può fottere di meno però faccio video per dirvi che io ho già commentato il festival di sanremo un anno fa in alcuni video cioè dicevo quello che ne pensavo non circa le canzoni e quindi l'invito se volete vedere dei video su sanremo che non parlano di quello che succede a sanremo ma di quello che io penso di sanremo di guardare video che ho fatto un anno fa si intitola sanremo bla 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 ogni video quindi sarà facile di trovare nella lista e quindi niente dicevo che adesso tratterò di saltare i brani di sanremo nel telegiornale perché io proprio saremo non lo voglio guardare però adesso si occupano fanno le anteprime addirittura anteprime di sanremo non sa che scorsa sono poi anche i video comic saranno tutti destinati a sanremo niente più umorismo solo canzoni di sanremo del passato fanno programmi sul sanremo degli anni passati quindi ti ci bombarderanno per una o due settimane con questo di sanremo poi per altre due settimane ci gragnone ranno con tutto quello che è successo a sanremo nell'ultimo sanremo nel penultimo negli anni passati quindi purtroppo è una piaga sanremo anche se non lo guardi e devi chiudere la teglia perché tutti i programmi avranno a che fare con sanremo il dopo sanremo il pre festival l'anteprima cornici storiche di sanremo prospettive storiche e mister su sanremo del 6 agli anni 60 il terrorismo e sanremo gli anni di piombo e sanremo l'inflazione sanremo che ne so quindi ho tratto di resistere la mia è una resistenza io resisto resistirò contro sanremo vabbè tanto io intanto di musica ce ne ho sento la musica che voglio non me la faccio porre e poi leggo leggo tantissimo che è sempre meglio di guardare san cimo e perdono sanremo leggo tanto come potete vedere io preferisco leggere a guardare sanremo e tu poi certo piuttosto che guardare qualcosa preferisco fare un video faccio un video dicendo quello che non guardo allora grazie di seguirmi volevo fare un video per ringraziarvi delle 70.000 visioni anzi delle 60.000 ma il tempo passa le visioni aumentano già stiamo quasi alle 90.000 anzi no abbiamo superato le 80.000 stiamo ecco farò un video ringraziato delle 100.000 visioni perché stiamo a 96 97.000 e nel tempo passa a me si passano e io c'è più di 10.000 visioni del canale al mese quindi se non più il treno al volo a ora fare un video per le 100.000 visioni no conviene aspettare le 110.000 perché sennò che faccio per le 72.000 per le 85.000 per me 92.000 no farò un video per ringraziarvi delle 100.000 visioni del canale adesso vi lascio forse più tardi registrano qualche pensierino su sanremo ciao